Vedi dove sono, guardami Ah Vaffaculo Soffreca Vaffaculo 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 Da dove cazzo si entra qua? Allora, noi siamo qua. Io cango, hai un problema prendere il camion. Perché io pensavo che bastasse andare dritto, poi subito a destra, e invece dobbiamo fare tutto il giro? Io cango, e portarlo via? Qua bisogna per forza di cosa liberare tutto? E allora, liberiamo tutto uno alla volta, con calma. Allora, solo che c'è sto cecchino in alto che rompe il cazzo. E il cecchino non è il primo che può non farsi? Intanto cerchiamo di inquadrarci tutti, 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 pian pianino. Ecco, mi si riascarica. Beh, devo vicinare ancora un po'. Faccio che chiese quello qua, no? No, l'ho selezionato, quello è andato via. Però tornerà. Aspettiamo che si ricarichi il drone. Tac. Perché non riesco a vederli tutti, mi vecio perché? Perché magari sono bassi, guarda, questo viene uno qua. Eh, ma non lo vedo quello là. No, avessi un altro. E dopo che ne vedo qua in fondo. Boh, perfetto. Quei vicini che mi ho fatti tutti. Ma sta tornando il tipo. Via. Questo qua è il primo che ci dobbiamo fare. Ma ce lo facciamo tutti e due, così siamo sicuri che non succede niente. Torna indietro. Ascolta, mi vedi? Vedi? Senta, quindi dove sono io? Se ti affacci mirando, vedi che c'è quello dentro la casetta là in fondo? Se lo ammazziamo qualcuno lo vede, secondo te? Aspetta. Perché c'è quello e quello che sta venendo su, anche. Secondo me dobbiamo fare uno fa quello sopra e uno quello sotto, secondo me. Ma quello sotto ce lo possiamo fare qui da soli. Eh, ma quello sopra lo vede? Dici? Vai, vai, sparali, sparali. Quello sotto. Vai. E poi quello sopra, subito. Buono. Bravi. Allora, lì dovete farti il cecchino. Aspetta, li abbiamo beccati tutti? Sì, sì. Boh. Il cecchino con un colpo, quello in fondo? Ok. Mi avvicino il più possibile, però. Io lo tomo mirato, non sbaglio che lo manchi, gli sparo anch'io. Dimmi come sappia sparare. Aspetta. Sono contro luce, Dio caro. Non gli vedo la testa. Aspetta che lancio il drone, voglio capire come cazzo ha messo. Ah, è coperto, c'è tipo la... Sì, la copertina quella che ho io. Sto per sparargli, eh. Allora, 3, 2, 1. Bravissimo. Sospettati, però. Perché? Ma è lampeggia anche quello che praticamente ha visto qualcosa. Hai visto che lampeggia una delle frecce viola? C'è. Ascolta, in fondo ne abbiamo qualcun altro da beccare. Lancio il dronettino. Visto che siamo più vicini. Sarà dentro qua, dentro a casetta. Beh, ci sta facendo uno beccio. Sta andando, è di fianco alla torretta, lo vedi? Sì. E sta venendo anche un altro, sta venendo anche un altro adesso. Visti. Secondo me ci dobbiamo avvicinare, perché quelli hanno anche il caschetto. Non li fai fuori con colpo in testa. Ma che ci sia un ingresso qua a destra? Oh, sì che c'è un ingresso qua a destra. Ottimo. A sinistra? Sì, a sinistra. Allora, facciamoceli con calma, uno alla volta. Ok, fatto questo. Boh. Ah, eccolo là, là ce n'è uno da selezionare. Perfetto. Facciamo tutto il giro da dietro e andiamo a vedere questo qui che che ancora non è selezionato. Uh-huh. Ah, sarà dentro l'armeria, allora? Aspetta, questo quello lo facciamo fuori, ragazzi? Quello là, in fondo lì? È troppo in vista, a 75 metri? Ah. Allora, non si lanciano i sassi questa roba qua. Facciamola avvicinare. Mi stai dando un altro anche. È troppo... Sono ancora tutti e due? Eh, ce n'è un altro ancora dietro. Oh, cio, 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 cio. Dietro, dietro, dietro. Che le preoccupa? Che tre metri. Prendono il cadavere? No, no. Non c'è. Non c'è. Guarda il drone da lì, sconditi. Questo ce lo potremo fare, forse. Guarda, orco di... Oh, vai. Io con la da sinistra, tu con la destra. Veloce però. Vai. Tutti... Vai. Ricercati. Io, porco. Da chi? Vabbè, vabbè. Ricercati non è ancora in battaglia, no? No. Quello era l'ultimo. Ecco dove era quello. Ma siamo ricercati, non siamo ancora in battaglia. E ora, aspetta un attimo, ricarichiamoci. Anche perché isentanti. Ci sarebbe questo qui davanti alla casa. Mortaio! Mortaio! Ma per che ha sparato il mortaio qua, questo? Forco! Mortaio, via, via, via! Oddio, buono. La fa fuori il mortaio. Sta arrivando il rinforzo con la macchina anche. Allora, ormai siamo in mortaio, veccio. Occio, mortaio. Vai. Proviamola. No, mortaio. No, 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 no. Io vado su. No, 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 no. No, 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 no. Buono, per ora mi sta andando bene. Elicottero e veccio. Elicottero è andato. Grande. Come si faceva chiamare i mortai che l'avevamo sbloccato dei ribelli? Eh, non mi ricordo adesso. Vabbè, dai, tanto siamo... Non possiamo usare l'oro? Sì. Vuodoro sulle macchine. Ah, mi hai pulito tutto. Ottimo. Guida te, guido io. Guida te, va. Abbiamo fatto cacao. Comunque non vorrei dire ma ancora 100%. Ah, perché c'hai la danneggiabilità? Grande. Tu sì che sei un purista. Oh, io direi che se faccio anche il 99 rifacciamo tutta la missione, cosa dici? Beh, per me sì. 100%! Grande. Non ci sarebbe... Quello di prima, facciamo il posto rapido a quello di prima. Faccio... Hm? Faccio... Faccio...